Furti in un'azienda edile ad Eboli, ubicata a Santa Cecilia. I ladri sono giunti sul posto l'altra notte a bordo di un furgone sul quale indisturbati sono riusciti a caricare attrezzature e merce varia, facendo razzia di tutto ciò che era presente nell'azienda. Dopo aver caricato la rifurtiva sul furgone sono fuggiti senza lasciar traccia e il giorno seguente, al titolare dell'attività che ha fatto l'amara scoperta, non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia del furto alle forze dell'ordine. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, anche avvalendosi delle immagini della videosorveglianza, che dovranno servire a dare un volto e un nome ai ladri. Purtroppo ad Eboli i furti nell'azienda sono molto frequenti. Nei giorni scorsi nel mirino dei ladri era finita un'azienda agricola e malviventi si erano impossessati di attrezzature per l'ammontare di qualche migliaio di euro. Altri furti nelle scorse settimane sono avvenuti nelle abitazioni e i cittadini chiedono maggiori controlli delle forze dell'ordine, sia in centro che in periferia.